L'automotive in Abruzzo vale 8 miliardi di fatturato, 25 mila posti di lavoro, il 55% delle esportazioni e il 15% del PIL dell'industria regionale. Per comprendere l'importanza di un settore strategico per l'economia abruzzese bisogna partire dalla lettura di questi dati che ci rivela Raffaele Trivilino, direttore del polo dell'automotive, presente questa mattina al tavolo regionale, convocato oggi dall'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele Damario. Oggi innanzitutto è un bel giorno perché per la prima volta dopo due anni riuniamo il tavolo in presenza e quindi questo è un sembolo di ripartenza sicuramente. Ma sicuramente il tavolo automotive sta affrontando tutte quelle che sono le difficoltà oggi legate all'automotive. Devo dire oggi è un giorno particolarmente felice perché ieri con l'incontro al ministero, alla presenza del ministro Giorgetti e del ministro Orlando, Stellantis ha consolidato la sua presenza in Abruzzo, essendo chiaro sul futuro di Stellantis in Italia e soprattutto in Abruzzo. Il comparto automotive è un comparto sicuramente di principale importanza per la nostra regione, soprattutto per la provincia di Chieti in particolar modo, che produce circa il 55% del PIL dell'esportazione abruzzese nel mondo. Oggi lavoriamo più in prospettiva, avendo avuto rassicurazioni da Stellantis sul futuro in Abruzzo, soprattutto di Sevel, è un momento in cui c'è bisogno di tanta coesione, ognuno deve fare la propria parte, le parti sociali, l'Arapp, la regione Abruzzo in primis. Quindi dobbiamo decidere chi fa cosa per dare una prospettiva ancora maggiore alla presenza dell'automotive in Abruzzo. È un momento in cui è in atto la transizione ecologica che non dobbiamo negare, sicuramente lascerà dei costi sociali importanti per quanto riguarda l'occupazione. Però devo dire che in Abruzzo siamo fortunati perché in questo momento i pezzi che interessano la transizione ecologica del motore non si producono in Abruzzo. Quindi questo sicuramente ci rassicura, quindi c'è bisogno di coesione in cui tutti dobbiamo fare la nostra parte e sono sicuro che il futuro dell'automotive in Abruzzo sarà sicuramente ridente. A discutere degli scenari futuri di un settore produttivo fondamentale per l'economia abruzzese, oltre ai rappresentanti della regione e del polo dell'automotive, c'erano anche i comuni di Iatessa, Sulmone e San Salvo, sui cui territori insistono importanti realtà produttive del comparto, Confindustria, l'Arap, la Sangritana e i sindacati. Gianna Diamicis, segretaria generale dell'UGL Abruzzo, siete soddisfatti anche dell'incontro che c'è stato ieri al Ministero per Stellantis? Abbastanza soddisfatti, diciamo che quello che ha riguardato l'Abruzzo era soprattutto su Termoli e su Atessa, che diciamo che infatti ci ha soddisfatto. Il governo ha accolto in maniera positiva quello che Stellantis ha messo in campo e ci auguriamo che poi vengano mantenute le promesse. Quanto preoccupano gli scenari di guerra in questo momento? Ma sicuramente incidono magari un po' meno sull'automotive, un po' di più su altri comparti produttivi. A breve avremo per esempio una riunione con un consorso di pellettieri della Val Vibrata che avevano il core business dell'esportazione proprio in Russia. Ci sono aziende sicuramente penalizzate da questo momento. Speriamo che si risolva presto perché sarebbe l'ennesimo problema dopo il Covid, detto il problema congiunturale di questi anni. Grazie a tutti.